Una preparazione indispensabile per insaporire i tuoi piatti Il dado vegetale, facile ed estivo Uniamo le verdure tagliate, sedano, carota, cipolla e zucchine Io aggiungo anche il basilico perché d'estate ho bisogno di metterlo ovunque E questa sono sempre io che furtivamente prendo il basilico del vicino Olio e lasciamo appassire per 5 minuti A questo punto aggiungiamo il sale e voi direte è tantissimo No, perché con queste dosi otterremo un sacco di cubetti Frulliamo con un mini peamer e lasciamo asciugare sul fuoco per 5 minuti Trasferiamo in un contenitore in vetro e lasciamo riposare nel freezer E il giorno dopo lo tagliamo a cubetti Io li conservo nei sacchetti da freezer riutilizzabili Facile vero?